Sono già passati 20 anni dalla prima volta in cui una sonda ha mappato il pianeta Marte, il pianeta che in fondo è il più vicino a noi, quello che ha stimolato di più la fantasia non solo di scienziati, astronomi, ma anche di letterati e scrittori. Proprio per questa sua vicinanza e lontananza, il paese più raggiungibile, ma al tempo stesso è ancora fuori dalla nostra portata. All'epoca, 20 anni fa, iniziò la mappatura di questo pianeta, aprendo prospettive e possibilità che sembravano più vicine di quelle che poi sarebbero state sulla nostra possibilità di colonizzare il pianeta Marte, di diventare anche noi un po' marziani. In realtà quello che sta accadendo negli ultimissimi anni, dai cambiamenti climatici alla pandemia al Covid, ci fa sentire sempre più vicino e sempre più raggiungibile la possibilità o forse la necessità di dover cambiare aria, anzi cambiare pianeta.